Donnarumma, quando non si trovano gli spazi centralmente forse gli attaccanti dovrebbero allargarsi, è questo che è mancato contro la spalla? No, vabbè, penso che si è vista la partita che ha fatto la spalla, è venuta qui, partivano degli attaccanti che facevano i centrocampisti e quindi tutto di conseguenza era un chiudersi continuo, non era una partita facile, poi siamo riusciti a sbloccare per una situazione e poi è successo un episodio che ti ha fatto perdere due punti. Però tatticamente il restare lì bloccati tu e la padula non è stata la scelta più intelligente dal punto di vista tattico? Io e Gianluca cercavamo di muoverci ma dove andavamo andavamo, eravamo marcati a uomo e non c'erano spazi, quindi non l'abbiamo cercato ma lo spazio non si è trovato. E' chiaro che la tattica della spalla vi ha messo un po' in imbarazzo e in difficoltà, pensate che poi qualche altra squadra possa ricorrere allo stesso sistema per imbrigliarvi? No, io penso che da qui alla fine quasi tutti faranno così perché comunque sanno che noi siamo una squadra che gioca, che fa del gioco la sua forza. E allora dovete inventarvi qualcosa di diverso? Ah beh, sicuramente noi cercheremo di fare sempre di più perché penso che ogni partita si può fare di più, però sicuramente non è facile quando una squadra si mette lì, rimane davanti alla porta e non ti dà modo di trovare spazi. È normale che noi dovremmo cercare di fare qualcosa in più, però sicuramente non è facile. L'Ascoli ha quattro punti e una fuga? Vabbè, ma io penso che noi non dobbiamo guardare l'Ascoli, non dobbiamo mettere solo a noi a fare più risultati possibili. Però se volete vincere il campionato all'Ascoli ci dovete guardare. Vabbè, ma noi non dobbiamo pensare a vincere il campionato, dobbiamo pensare che stiamo facendo bene e dobbiamo continuare a fare bene. Poi alla fine facciamo i conti e vediamo dove siamo arrivati. Il Presidente ha detto che Carrara vuole vincere. Voi cosa rispondete? Vabbè, pure noi vogliamo vincere, andiamo lì per fare la nostra partita come sempre e cerchiamo fino alla fine di portare i tre punti a casa.